Sono 21 i convocati di Bruno Tedino, tecnico del Palermo, in vista della trasferta di questa sera, ore 20 e 30, a Carpi. Segue la lista completa dei Rosanero. Portieri. Posavec, Pomini. Difensori. Accardi, Cionec, Davidovics, Strauna, Ziminski. Centrocampisti. Kokev, Giagialo, Fiordilino, Ignaore, Morganella, Murawski, Rolando, Rispoli. Attaccanti. Eimbalo, Lagumina, Nestorovski, Tradikovski, Monachello, Coronado.